Fumare una sigaretta fa male alla salute, ma fumare uno spinello di hashish può costare anche le manette. Lo ha scoperto sulla propria pelle un 24enne di Pozzuoli, incensurato fino a qualche ora fa. Assumere piccole quantità di stupefacenti, dice la normativa, comporta una segnalazione alla prefettura e una sanzione amministrativa. Arresto e carcere sono esclusi. Discorso differente per chi, oltre a fumare uno spinello in strada, nasconde 22 panetti di hashish nella propria cameretta. I carabinieri della sezione operativa di Pozzuoli hanno sorpreso il giovane in strada, poi hanno ritenuto il dover allargare il controllo e la perquisizione anche alla sua abitazione. Davanti agli occhi della madre infuriata del 24enne, i militari hanno scovato in uno zainetto ben 2,2 kg di hashish, un peso che escluderebbe il consumo personale, lasciando propendere la bilancia verso la detenzione finalizzata allo spaccio. E' di questo che dovrà rispondere davanti al giudice ora che è stato arrestato, nell'attesa è stato portato nel carcere di Poggio Reale.